Un protocollo d'intesa per tutelare e ripristinare il patrimonio ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, una collaborazione per integrare e utilizzare le rispettive conoscenze sul territorio attraverso il supporto tecnico-scientifico dell'autorità di bacino dell'Apenino Meridionale, la competenza alle indagini dell'Arma dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e le attività investigativo-repressive messe in atto dalla Procura di Torre Annunziata. Si tratta di un protocollo estremamente significativo che in realtà formalizza una collaborazione che di fatto è già in atto, che si aggiunge alla collaborazione con l'ARPAC sotto il profilo degli accertamenti sul campo e delle analisi dei sedimenti e delle acque. Consentirà infatti all'Arma dei Carabinieri di implementare i controlli e reprimere e possibilmente rimuovere le cause di inquinamento del fiume Sarno. Insieme all'università con la quale abbiamo stipulato un accordo, l'Università di Napoli, Dipartimento di Biologia, dicevo prima il professore Libralato, il quale sta eseguendo tutte le analisi in relazione poi ai campionamenti che vengono fatti ed intesa con i carabinieri, con i NOE. Ma a questo è associato tutto il lavoro sulle aree con termine del corpo idrico, dei corpi idrici di tutta la zona del bacino del Sarno con i vari sottobacini e quindi per dare quella che poi è una configurazione più ampia e sistemica e sistematica di quelle che sono le criticità afferente che poi provocano quelli che sono gli inquinamenti che registriamo sui corpi idrici. Conoscere il territorio ci consente di mettere in sicurezza quest'area così importante. La seconda è la specializzazione di Polizia Ambientale, qui abbiamo reparti che sono deputati a garantire questa sicurezza. E la terza è complementarità, la capacità di lavorare all'interno dell'ALMA attraverso le diverse competenze per mettere in sicurezza un territorio, per il benessere della collettività e anche per garantire i livelli di occupazione e i livelli di produttività che io penso che siano le cose che nell'economia di una regione, di una provincia, di un comune, siano le cose più importanti per il cittadino. Fino a questo momento per la sola procura o plontina ci sono stati 292 controlli, eseguiti 45 provvedimenti di sequestro di aziende o impianti produttivi, contestate 29 sanzioni amministrative, denunciate 170 persone e due arresti per reati in materia ambientale, tra i quali inquinamento.